Festa d'estate a Bassano per gli associati della FIAIP Veneto, il collegio regionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Ricorrenza tradizionale proposta da anni per consolidare lo spirito associativo degli agenti immobiliari e far conoscere la realtà di FIAIP ai consumatori e alle pubbliche istituzioni. L'evento si è svolto nella suggestiva cornice del ristorante Villa Cassette nella serata di venerdì 28 giugno, con la partecipazione di oltre 160 ospiti. In particolare noi di FIAIP Vicenza siamo assolutamente onorati di ospitare qui a Bassano del Grappa i nostri colleghi del Veneto, quindi abbiamo, mi sento di dire, i migliori agenti immobiliari del Veneto qui con noi stasera per una serata di serenità e tranquillità, ma anche di riflessione per fare il punto della situazione e poter partire determinati dopo le vacanze. Infatti ci sono dei progetti in vista per i prossimi mesi? Abbiamo un'importante innovazione, la metodologia di lavoro una FIAIP che ci permetterà anche in maniera certificata di mettere sul mercato degli immobili preventivamente controllati e al giusto prezzo. Questo per dare una garanzia di sicurezza ai nostri clienti che sono sia il venditore che l'acquirente. Un'occasione di ritrovo dunque, ma anche per fare il punto della situazione sul mercato immobiliare. Pian piano il mercato sta risalendo, quest'anno abbiamo quasi sfiorato le 600.000 compravendite, la nota negativa è che evidentemente i prezzi purtroppo ancora non risalgono. Per quanto riguarda l'attività dell'agente immobiliare, noi per esempio quest'anno come centro studi alla rilevazione dell'ultimo osservatorio abbiamo registrato che c'è stato un aumento del 20% delle compravendite con l'intervento di un agente immobiliare. Tra gli ospiti intervenuti alla festa d'estate della FIAIP Veneto, che attualmente conta oltre 1.100 iscritti, anche l'assessore Alberto Samperi del Comune di Tiene, l'assessore regionale al territorio Cristiano Corazzari, con i presidenti delle commissioni consigliari Giampiero Possamai e Francesco Calzavara, il vicepresidente del comitato notarile del Triveneto Roberto Agostini, i rappresentanti provinciali di Confedilizia e tutti i presidenti provinciali FIAIP Veneto. A dare un ulteriore tocco di classe alla serata anche l'esposizione di tre affascinanti Porsche della concessionaria FRAV di Vicenza. Abbiamo raggiunto dei traguardi importanti quest'anno come la legge sull'abusivismo, come la legge richiesta dalle comunità europee sulla compatibilità del nostro lavoro anche con altre attività. Un progetto che qualifica l'agente immobiliare. L'obiettivo principale di FIAIP è di elevare la professionalità dei nostri agenti immobiliari. Una FIAIP ha depositato presso l'UNI, che è l'Internazionale Informazione, proprio il modello di riferimento a cui si deve rivolgere un agente immobiliare. Cosa deve fare per essere un bravo agente immobiliare per tutelare le parti. Tutti i contatti e maggiori informazioni sull'attività della FIAIP Veneto sul sito www.veneto.fiaip.it Grazie a tutti.